serena sono arso che cosa ne dici di bere qualcosa in un bar ma volentieri ma sarà aperto beh di solito apriamo alle 18 alle 18 come a manatta ci hanno consigliato di gustare qui da voi un'ottima piadina professore è una spianata un pane adimo prodotto da noi con tutte farina chilometro zero e farcito con prodotti dell'alessinia il top è con la farina di canapa farina di canapa ma non ci resta che provare la canapa è viva è viva è viva è una bomba è